Buongiorno, buonasera a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Quest'oggi siamo di nuovo da computer perché voglio fare un esperimentino per quanto concerne l'upscaling di immagini. Esistono moltissimi siti web che ci permettono di upscalare le nostre immagini ma non so effettivamente quale tra questi sia il migliore quindi voglio fare questo esperimentino in modo che io possa testare tutti questi vari siti e voi possiate già sapere qual è il migliore senza doverli testare manualmente a vostra volta. Quindi vedete la visione di questo video come un modo per risparmiare tempo qualora vi interessa l'upscaling di immagini perché andremo a testare i software più consigliati sul web e andrò a dirvi qual è il migliore paragonando anche tutti questi vari siti con Adobe Photoshop. Ma quindi, bando le ciance, andiamo subito da computer e iniziamo questo esperimento. Esistono diversi siti di upscaling che ci permettono di aumentare le dimensioni delle nostre immagini o delle immagini comunque che troviamo magari sul web e che abbiamo bisogno che siano più grandi. Ciò che voglio fare in questo video è innanzitutto importare su Photoshop questa fotografia che ho scaricato da Pexels. Come al solito vi lascio il link della fotografia originale su Pexels in descrizione in modo che possiate vedere chi è l'autore e come potete trovarlo. Vi ho parlato di Pexels in un video apposito se non sapete cosa sia ve lo lascio come al solito qui sopra nelle schede. Ciò che voglio fare innanzitutto in questo video è andare a downscalare questa immagine in modo da poter poi vedere i vari siti di upscaling quanto riescono ad upscalare in maniera decente le nostre immagini. Quindi ho preso i 5 siti che su Reddit e su altre parti dell'internet dicono siano i migliori servizi online per upscalare le nostre immagini e andremo a testarli uno ad uno per vedere quale sia il migliore. Alla fine di questo video andremo a confrontare i vari dati andremo a confrontare la qualità di ogni immagine e andremo a vedere chi ha fatto il lavoro migliore. Quindi rendiamo questa immagine abbastanza piccola diciamo che il lato corto sarà 720 in modo da avere un'immagine a 1080x720 quindi un'immagine in HD e non in Full HD. Magari togliamo la riduzione di turbo data dal ricampionamento e clicchiamo su OK. La nostra immagine adesso è tanto piccola adattiamo lo schermo il 100% del nostro zoom è questo. Quindi sì, il nostro soggetto ha perso veramente tantissimi dettagli. Per inferire ancora di più salverò per web questa la chiameremo immagine downscalata. Ora abbiamo la nostra cartellina e ho già aperto tutti i siti principali. Abbiamo qui la nostra immagine magari la metto a destra. Ok, eccoci qui. Questo sito è Vance AI uno tra i vari siti web che ci permettono di upscalare le nostre immagini quindi immagino che io possa sì, draggare direttamente l'immagine qui quindi prendiamo la nostra immagine downscalata e droppiamola qui. Perfetto. Possiamo invitare i nostri amici per 100 crediti e più quindi immagino sia un programma a pagamento dopo un certo tipo. Esatto, abbiamo tre crediti. Immagino che con il piano gratuito si possano upscalare tre immagini. Perfetto, abbiamo upscalato la nostra immagine. Vediamo un po', vediamo un po' cosa è riuscito a fare. Posso zoomare in qualche modo? Uno, uno. Non posso vedere per bene, va bene. Immagino che scaricando l'immagine io poi possa farlo. Piano gratuito. Ah, devo iscrivermi. Potevi dirmelo prima, sito. Un punto in meno per te. Vediamo. Mi iscrivo con Google, così faccio prima. Ok, eccoci qui. Sono iscritto. Ora posso rifare la mia immagine. C'è troppo spam su questo sito per i miei gusti. Già sta perdendo dei punti perché non andrò a valutare ovviamente soltanto il servizio ma anche il modo in cui il sito si pone nei nostri confronti quindi il tempo che ci mette ad upscalare il tempo che mi fa perdere come funziona il piano gratuito quanti crediti ci dà il piano gratuito e tante altre cose. Sicuramente questo sito è estremamente lento e sicuramente starò cronometrando il tempo che impiega per fare questo processo perché davvero, oh, ha finito. Grazie. Meno male. Processata? Ah, ma c'era anche quella di prima, vabbè. È molto poco intuitivo. Vi dirò la verità. Download. Direi che abbiamo questa immagine. Magari vorrei vederla. Oh no, ho messo un watermark. Con il piano gratuito abbiamo un bellissimo watermark. Però non si è comportato troppo male. Forse troppo olio. Sembra un po' un dipinto d'olio soprattutto per quanto riguarda il bokeh, guardate. Sembra letteralmente un dipinto d'olio però non è male. Il watermark è un punto a sfavore. Va bene. Vansaiai non mi è convinto profondamente però ti sei comportato bene. Vediamo Deep Image. Accetto i tuoi biscottini. L'immagine è downscalata. Dobbiamo metterla qui. Perfetto. Vedete così si fa. Non sono iscritto? Dimmelo subito. Mi iscrivo. Dopodiché posso tranquillamente lavorare con il tuo sito. A me non dispiace il fatto che debba iscrivermi a questi siti. Dispiace il fatto che mi fai perdere tempo se dopo aver caricato la mia immagine per ingrandirla mi dici Ehi però devi iscriverti per il piano gratuito. Capite? Ci siamo. Ho il mio profilo. Adesso posso prendere la nostra immagine downscalata e uploadarla. Ok. Vedete? Già ci sono più impostazioni. Ci sono più configurazioni. Più personalizzazioni. Già questo sito mi piace molto di più. Tra l'altro ci dirà la risoluzione di destinazione. Posso fare 3x? Ah. Funziona anche questo a crediti. Noi quanti crediti abbiamo? Non ne ho idea. Vediamo. Clicco su pricing così sicuramente riuscirà a dirmelo. Free account 5 crediti gratuiti. Poi costa 9 centesimi per immagine. Quindi in realtà pochissimo. Oppure ci sono i vari piani. Se funziona bene oserei dire che in realtà è anche abbastanza conveniente per quanto riguarda i prezzi. Però vediamo. 3x? Wow. Puoi davvero fare una cosa simile? E costa sempre un credito? Costa sempre un credito. Non capisco allora perché io non debba scegliere 4x. Scegliamo 4x. Mi sembra una risoluzione esagerata. Ma vediamo. Riduzione rumore. Ok. Potrebbe apparire come se stessi utilizzando alte impostazioni ISO. Va bene. Diciamo che la riduzione rumore solitamente non mi piace troppo se il sito va a farla male. Quindi magari non la utilizzeremo. Invece per quanto riguarda il dettaglio. Il dettaglio. Forse è già abbastanza dettagliata. Facciamo. Upscaliamola pura. E dopo magari proviamo con la riduzione del rumore e con il dettaglio. Perché immagino che io possa permettermelo. Upscaling. Vediamo un po'. Cosa succede? Vediamo quanto tempo impiega. Ok. No. Pensavo avesse già finito. Vediamo quanto tempo impiega per fare questa cosettina qui. Ha finito. Ok. Non vedo troppe differenze perché me la stai mostrando piccola anche se in realtà alcune le noto. Ovviamente c'è un po' di dettaglio in più. Però scarichiamola e vediamo a dimensione intera. Ci siamo. Vediamo un po' come si presenta. Zoom. Assolutamente non male. Sicuramente è molto più realistica. Molto meno olio di quella precedente. Quindi già mi piace molto di più. Non c'è un watermark. Sicuramente questo sito si è comportato estremamente bene. Guardate il livello di dettaglio. Questo non mi dispiace affatto. Vi dirò la verità. Vediamo come si comporta qualora io voglia utilizzare tutti i suoi preset qui. Quindi 4x, riduzione rumore... Ah no. Scusate. Ho caricato l'immagine grande. Forse è un po' esagerata quella risoluzione. Voglio caricare l'immagine da una scalata. Perfetto. Ora ci siamo. Riduzione rumore on. Sharpen on. Vai. Upscala. Probabilmente adesso ci metterà di più. Ci ha messo effettivamente di più. Ma non troppo. Forse però ha smarmellato la nostra fotografia. Quindi è meglio spendere un credito. Lo scopriremo subito. Scarichiamo anche questa. Andiamo a vederla. Sì. Vi dirò la verità. Mi piace... Wow. È molto oleosa adesso. No. La riduzione del rumore fa letteralmente schifo. Non vale la pena spendere tre crediti per fare una cosa simile. È meglio utilizzare il servizio di base. Guardate. È molto peggio. Molto più finto. No. Così non mi piace affatto. Invece così funziona assolutamente. È molto più carino. Molto più realistico. Va benissimo. Direi che questo sito è per metà promosso. Vediamo come si comporteranno gli altri. Chiudiamo. E arriviamo a AI Image Enlarger. Posso sempre drag droppare? Sì. Perfetto. E... Start? Molto intuitivo questo. Artwork, foto. Ok. C'è già una distinzione tra artwork e fotografia. Mi piace. Facciamo foto. Tra l'altro non mi chiedo di iscrivermi. Me lo chiederà dopo? Vediamo. Per 8x, 16x serve un upgrade. Quindi noi faremo un 4x. La riduzione del rumore abbiamo capito che non è una buona idea. Quindi non la sceglierò. Clicchiamo su OK. Se non mi fa direttamente iscrivere. È assolutamente un punto a favore. Si guadagna sia nell'immediatezza di utilizzo. Sia nella gratuiticità del servizio. Perché significa che non sta tracciando quante immagini io stia upscalando. Sarebbe un grande punto a favore che sicuramente lo porterà sugli altri. Ma vedo che impiegherà 6 minuti per upscalare. Beh, vado a farmi un caffè intanto. Ok. Ha finalmente finito. Ci ha messo davvero tantissimo tempo. Dio mio quanto sei lento. Vediamo almeno se hai fatto un buon lavoro. Oh, ok. Non male. Come gli altri siti. Come il sito che si era comportato bene senza watermark. Che era, non ricordo il suo nome. Credo, Deep Image. Comunque sia. Esattamente come lui. Ma sprecando molto tempo in più. Però regalandoci completamente il suo piano. Perché qui non ci siamo nemmeno iscritti. Siamo entrati in questo sito. E abbiamo caricato la nostra immagine. Si possono caricare in batch? Si possono caricare in batch? Quindi a questo punto sicuramente può valerne la pena. Però si avviano uno alla volta? No. Si possono anche avviare insieme? Ok. No. Non è male come sito. Semplicemente ci metterà tanto tempo. Quindi dovrete andare, non lo so, a farvi un caffè. Come ho fatto io seriamente in questo momento. O trovare altri modi per impiegare il vostro tempo. Mentre lui lavora. Non è un grande difetto. Sicuramente meglio un sito che lo fa nell'immediato. O meglio utilizzare Photoshop da questo punto di vista se si ha abbastanza fretta. Però è completamente gratuito a quanto pare anche un software. Sia per Windows, sia per Mac, che per Android. Magari lo testeremo in un video apposito sul mio canale? Vedremo perché questo sito mi ispira. Intanto scarico la versione per Windows 64-bit. Che è il tipo di computer che ho io. Passiamo al prossimo sito. Anche questo, come potete vedere dal titolo, si basa sull'intelligenza artificiale. Ed è Smart Upscaler di Icons 8. Anche qui posso drag-droppare. Quindi prendiamo la nostra immagine downscalata. E vediamo qui. Non mi ha fatto ancora iscrivere. Posso upscalare quattro immagini in una giornata, credo. Va bene. 1.440x2.160 mi fa già vedere una preview. Bellissima questa cosa, molto intuitivo, molto carino. E posso anche fare un 4x. Ah, aveva già processato, tra l'altro. Complimenti, velocissimo. Sicuramente dopo il sito di prima, qualunque sito mi sarebbe sembrato velocissimo. Però 2000x3000 è già un'ottima risoluzione. Ok, proviamo. Scarichiamo. Ha già finito? Complimentoni. Super immediato. Eccola qui. Vediamolo un po' da Windows. Standard. Molto standard, un po' le osa per quanto riguarda le rughe. Si sono persi tantissimi dettagli, ma è stato immediato e veloce. Di questi siti, ognuno ha i suoi pro. Incredibile. Come faccio a scegliere il migliore? Probabilmente il migliore da questo punto di vista sarà o Deep Image oppure Photoshop. Direttamente. Vedremo. Intanto andiamo all'ultimo sito di oggi. AI Image and Larger. Si chiama in maniera simile ad uno che abbiamo visto prima, vero? Mi sembra di sì. Il sottotitolo di uno dei siti presenti era praticamente identico a questo. Questo mi sa di sito super professionale, quindi mi sa che dovrò iscrivermi. Ma vediamo. Proviamo a caricare la nostra immagine da un scalata. Sì. Ok. Crea un account. Ok. Ho creato il mio account. Fortunatamente questo sito, esattamente come quello di prima, mi ha detto prima di processare la mia immagine che avrei dovuto iscrivermi. Quindi carichiamo la nostra immagine da un scalata e non pensiamoci più. Per forza 2x no. Possiamo fare anche 4x. 8x no, perché immagino che ci sia il piano a pagamento che ci permette di farlo. 9 dollari al mese per tutto questo. 19 dollari al mese per tutto questo. C'è anche il batch process in modalità priorità. Potrebbe valerne la pena? Vediamo come si comporta. Start 4x. Quanto tempo impiegherà questo sito? Cronometriamo. Ok. Ha finito. Non ci ha messo troppo, non ci ha messo troppo poco. È assolutamente nella norma, nella media. Oh, questo me lo apre direttamente in un'altra scheda bellissimo, in modo che io possa vederla sul web prima di scaricarla. Quest'idea mi piace. Ok. Forse è quello più realistico. Sì, è quello meno oleoso, quello che ha mantenuto più dettagli, quello che si è comportato meglio, per ora mi sembra di capire, dal punto di vista proprio della fotografia. È un po' sfogatino lui. Ma giustamente perché abbiamo upscalato l'immagine. Ma non è assolutamente male. Oserei dire che mi sembra essere quello più simile a Photoshop, ma ne avremo a breve la conferma. Vediamo qui. Eccola qui che è comparsa. E adesso chiudiamo il nostro browser internet perché abbiamo provato tutti i siti che c'erano da provare. e testiamo infine Photoshop. Chiudiamo la nostra immagine originale, prendiamo la nostra bellissima immagine downscalata e copiamola all'interno di Photoshop. Quindi clicchiamo su immagine, dimensione immagine. Qual è l'immagine più grande tra di voi? Vediamo qui dimensione. Tra di loro è questa qui, 2880x4320. 4320, 2880. Perfetto. Photoshop ovviamente ci permette di personalizzare molto di più ciò che stiamo andando a fare. Il ricampionamento con mantieni dettagli 2.0 è sicuramente un'impostazione che vogliamo mantenere perché andando a toglierla è comunque funzionante come upscaling. Però il ricampionamento del mantieni dettagli 2.0 è veramente funzionale, è veramente funzionante. Direi che darò anche un po' di riduzione di disturbo su Photoshop perché mi permette di selezionarla, mi permette di scegliere quanta riduzione di disturbo tra la nostra immagine. Quindi possiamo comunque regolarci. Io solitamente questo lo imposto verso il 20%. Clicchiamo quindi su ok e vediamo come si comporterà il nostro caro Adobe Photoshop. Ci ha messo un millesimo di secondo, non bisogna cronometrare perché questo è un software professionale a pagamento, quindi ovviamente ci mette un attimo. Sicuramente è la soluzione più costosa in assoluto, però probabilmente anche per quanto concerne la qualità è tra i migliori. Forse però il nostro carissimo AI Image Enlarger è riuscito a fare di meglio. Hanno la stessa dimensione, ok. Summiamo un po', 100%. Questo è AI Image Enlarger, mentre questo è Adobe Photoshop. Photoshop è leggermente, vi ho detto che era molto simile a Photoshop, no? E ci ho visto bene, è molto simile a Photoshop, solo che Photoshop è un po' più sharp, è un po' più nitido, probabilmente per via del mantieni dettaglio 2.0 utilizzato in maniera manuale, altrimenti sarebbero completamente simili. Sicuramente Photoshop senza il mantieni dettaglio 2.0 è peggio, ma col mantieni dettagli riesce comunque a fare di meglio. Quindi, secondo me, ora andremo a tirare le somme con la parte finale di questo video, ma secondo me, se avete già Adobe Photoshop, se pagate già per il piano di Adobe Photoshop, non avete bisogno di utilizzare un altro di questi siti, perché già Photoshop costa tanto, è in abbonamento e vi permette di fare ciò che vi permetterebbero di fare questi siti con un semplice clic cliccando su dimensione immagine. Se invece non avete Photoshop, utilizzate altro per modificare i vostri scatti e non volete pagare l'abbonamento ad Adobe, oppure semplicemente non potete permettervelo, lo capisco tranquillamente, è comunque un prezzo proibitivo per molte persone, in quel caso probabilmente non voglio allungarmi troppo, ma il sito migliore è AI Image & Larger. Però, paragoniamoli tutti ad uno ad uno, dati alla mano, prima di chiudere questo video. Vance AI si è rivelato il peggiore tra questi qui, sia per quanto riguarda la qualità che per quanto riguarda le dimensioni d'immagini, ma è mediamente veloce. Deep Image, invece, è molto veloce e molto intuitivo, tira fuori tantissimi dettagli dopo l'upscaling e ci offre ben 5 immagini gratuite, inoltre qui le dimensioni iniziano a salire. AI Image & Larger di Big JPEG è il più lento in assoluto, ma al contempo è molto intuitivo, tira fuori tantissimi dettagli, riuscendo ad upscalare per bene le nostre immagini e soprattutto ci offre una quantità infinita di immagini gratuite. Inoltre può lavorare in batch, quindi ammorbidisce la sua lentezza. Smart Upscaler è invece il più intuitivo in assoluto, è istantaneo per quanto riguarda la velocità, ma tira fuori immagini molto leose. AI Image & Larger, invece, è ultra intuitivo, è mediamente veloce e ha una qualità pazzesca, praticamente pari ad Adobe Photoshop. Inoltre ci offre ben 8 immagini gratuite. Adobe Photoshop è perfetto sotto ogni punto di vista, ma l'unico suo contro, ovviamente, è che si deve sottoscrivere un abbonamento e quindi risulta essere molto costoso. Quindi ragazzi, cosa ne pensate? Qual è il vostro sito preferito? Qual è il vostro stile preferito? Preferite un upscaler online molto veloce, molto immediato, che lavora in pochissimi secondi, ma che comunque tira fuori delle immagini abbastanza oleose? Oppure preferite perdere un po' di tempo in più, lavorare in batch e avere delle immagini qualitativamente ottime, senza nessun limite economico, soprattutto? O addirittura, come nel mio caso, preferite avere una sottoscrizione ad Adobe Photoshop e quindi lavorare direttamente su Photoshop, perché abbiamo capito che lui, da questo punto di vista, è comunque il migliore, anche se, in fin dei conti, è anche quello più costoso in assoluto. Fatemi sapere qui sotto con un commentino qual è il vostro preferito, fatemi sapere se questo video dovesse esservi stato utile e io spero che vi sia stato utile. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre su questo mio canale. Qualora vogliete seguirmi sugli altri social, sono comparsi in questo momento e sono anche nella descrizione di questo video, quindi cliccando qui sotto verrete reindirizzati direttamente ai miei vari social, a Instagram, Facebook e tutto ciò che c'è. Qui trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, sempre di martedì o venerdì, sul mio canale. Alla prossima gente, bye bye!